Allora il giorno 8 dicembre siamo arrivati alla cumbre incredibili ma vabbè ce l'abbiamo fatta 6.88 6.88 8.88 siamo alla cima la cumbre la playa molto caliente ciao freddo cacchus cacchus dove è la pace dove sta la macchina dove sta la macchina 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 ora dobbiamo scappare siamo contenti però siamo stanchissimi si però ora basta perchè ho le mani congelate si